Dalla borraccina del Natale spunta il verde dell'olio perché il verde della borraccina sembra quasi che assomigli veramente a quest'olio. Com'è quest'olio palazzolo? Siamo nella zona di Marcena tra l'altro. Marcena, questo l'ho sentito, l'ho degustato, l'ho assaggiato, è un olio veramente a un fruttato vegetale, erba appena falciata, verde, verde. E' quello che ci aspettiamo dall'olio e che oggi, grazie a Dio, quest'anno hanno tutti, dopo l'annata tragica del 2014 che molti non hanno raccolto le olive, quest'anno abbiamo una buona produzione, non di quantità ma soprattutto di grande qualità. Questo è un olio molto verde, si richiama, fa ripensare a una raccolta un po' anticipata con un verde molto pronunciato. Scusa, quando avete raccolto? A fine, in pratica, ottobre e il 3 novembre è stato... Si vede, alla fine di ottobre in effetti è le raccolte che noi consigliamo. A metà invaiatura, quando l'oliva è mezza cerba, è mezza matura, è il periodo migliore per raccogliere e per frangere. Frangere subito, abbiamo gli oli di un certo equilibrio, in effetti questo è abbastanza equilibrato sia con il fruttato che con l'amaro piccante, perché l'amaro nell'olio, lo ripeto, è un valore aggiunto valido. Scusa, una volta però si diceva che il piccato veniva dato dalle foglie, non è vero allora? No, 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 basta andare nei frantoi, qui ne abbiamo uno di fronte, c'è il defogliatore che porta via tutte le foglie. Quindi sfatiamo anche questo detto, no? Perché in effetti erano tutte cose detti di un tempo. Allora, in questo caso salutiamo Palazzolo. Senti, mi fai vedere questo verde nel pane? Così, ecco, vediamolo un po', facciamolo vedere davanti alla telecamera. Guarda, no, mettiamolo così, sul... Eccolo, eccolo qua. Guardate che bel verde, stop, basta, che altrimenti, come dice Giulio, esagerare fa male, ma facciamo per mostrarvi quest'olio di marcena che è veramente importante. Tra l'altro loro sono una cosa curiosa, perché fanno anche tante cosine fatte in casa, come i fichi, è vero? Secchi, quindi sono cose curiose, ma Giulio devi sapere che è un grande intenditore di tutto, perché non è soltanto Aiko, ma è Ais, è un po' comunque nel buon mondo del cibo, no? Sì, sì, del cibo, dell'enagastronomia, diciamo così, ecco, cuochi, ficche, eccetera. Io volevo aggiungere questo, anche per i telespettatori, ha fatto vedere la bottiglia chiara, ecco, è consigliabile mettere, conservare l'olio sulle bottiglie scure. Ora mi hanno spiegato, qui ce ne sono diverse bianche, lo fanno soprattutto per far vedere la limpidezza e il colore dell'olio. Bibiano, siamo a Capolona, zona collinare, zona ottima, dobbiamo dire, proprio per il vino anche, perché ha una scolatura particolare anche il terreno, no? Sì, sì, ma poi è rinomata anche per una chiesa, una bellissima chiesa, stupenda. Coltivazione avete, per esempio, terrazzamenti o avete sfatto i terrazzamenti, quando si potevano sfare? Sì, è un terrazzamento piccolo, poi abbiamo fatto anche una piccola piantagione fatta altro quattro anni fa, si nuova a un campo grande, ancora il frutto non si sta prendendo. Scusate, che tipo di olio avete messo altro quattro anni fa, visto che siamo? Abbiamo messo un pochino il pendolino, il frantoiano, un pochino misti, per fare il muraiolo, per fare una qualità, sono una settantina di pedoni e abbiamo fatto un pochino misti. La coltivazione del casentino, soprattutto, è questo famoso blend che ora alcuni stanno andando sul monocultivare, ma però è basato soprattutto sul leccino, che è una cultivare che dà dolcezza all'olio. Il frantoio gli dà soprattutto l'amaro e poi c'è il muraiolo, che è quello che lega, gli dà l'armonia, gli dà quella plasmata che è indispensabile alle due cultivare. Sarebbe quello centrale, quello che amalgama tutto. Senti, adesso ti faccio una domanda, visto che tu sei un esperto abbiamo detto anche naturalmente del buon cibo. Qui abbiamo dei broccoli, poi abbiamo il cavolfiore, l'insalata e poi un finocchio. Allora, cerchiamo di condire con l'olio questo tipo di prodotti. Alcuni sono fatti lessi, quindi si cuociono a vapore, che è sicuramente migliore perché mantiene tutte quante le sue proprietà e poi anche il piacere ha un gusto esagerato, lì non andrebbe neanche condito qualche volta. Però mettiamoci l'olio. Che tipo di olio potrei usare, anche perché sono sapori diversi? Sono sapori diversi, è quello che noi diciamo sempre, che facciamo alle nostre lezioni, ai nostri corsi. Per esempio, facciamo l'esperimento del pinsimonio, che sono un bouquet di verdure. Si fa il pinsimonio, siamo sempre usati a farlo con un olio solo. Io dico, speriamo almeno che sia buono. Ma l'olio ce ne vorrebbe per fare un buon pinsimonio, per gustare delle verdure nella loro piena fragranza e armonia. Ci vorrebbero due oli, uno più gentile e uno molto più piccante ed amaro. Allora, con i broccoli vai. Con i broccoli ci vuole un olio di media equilibratura, soprattutto un olio buon e equilibrato, verde quanto basta, con un fruttato armonico e piccante e amaro in perfetto equilibrio. Mentre sull'insalata ci vuole un olio più gentile. Dolce non si può dire, ma un olio più gentile. Ora, noi diciamo questo. L'olio nuovo va bene, l'olio di novembre, di ottobre, novembre, va bene per la bruschetta, perché ti dà la romanticità, va bene per il cavolo nero, va bene per qualche zuppa di fagioli. Ma generalmente l'olio comincia a esprimere il meglio di se stesso da gennaio in avanti. Usarlo su un'insalata, vediamo noi un'insalata verde, una lattuga, ci vuole, ammazza il sapore della lattuga, ammazza il sapore. Il solito discorso del broccolo, ecco. Dobbiamo aspettare un pochettino. Perché poi ricordiamoci che l'olio non è che dice l'olio a extravergine di oliva, quanto dura? Dura un anno, dura finché non c'è quello nuovo. No, va avanti ancora nel tempo. Perché se è ben conservato, se ne parlava prima, se uno fa le determinate accortezze, arriva a ottobre, a novembre, che ancora è fruttato, è piccante ed è amaro. E va benissimo con determinati prodotti della natura. A gennaio, a febbraio ha cominciato a avere, perché anche appena franto, subisce uno shock, l'oliva viene frantumata, si deve riposare. Nel riposarsi ci vuole del tempo. Poi sono periodi un po' freddi, ci vuole ancora di più. Comunque, l'olio nuovo, consumiamolo, incaviamoci, perché è la novità. Sulla novità siamo portati soprattutto a consumarlo, ci fa piacere. La sera si torna a casa, una bruschetta, meglio di una bruschetta. È la colazione, la merenda più sana che esiste al mondo. Scogliamo naturalmente questa occasione di questo insegnamento di Giulio Biseaccioni a AICO e andiamo avanti. Grazie alla Quercia, grazie. Siamo nella zona di Castelnuovo, di Bibbiano sempre, perché voi avete sempre a Bibbiano. Loro sono di Castelnuovo, ma sono vicini. Allora qui c'è anche una gara, potremmo quasi dire. È vero? Sono sorelle, non vale allora. Non vale Giulio, sono due sorelle. L'agricoltura e la coltivazione dell'olivo è molto donna secondo te? È diventata molto femminile? Ci sono tante imprenditrici? Sì, sì, molto, molto, molto e soprattutto nella raccolta delle olive che mi viene fatta manualmente si vedono moltissime donne. Perché poi oggigiorno tutti chi ha gli oliveti le tengono a una certa altezza e sono molte basse. Non è come una volta che si prendeva le scale e si saliva su. Oggigiorno sono alla portata di tutti. Anche i bambini e i ragazzi si divertono a cogliere l'olivo perché è una cosa che fa piacere, è una cosa bella come la vendemmia, come tutte le raccolte del campo nell'agricoltura. Sono cose piacevole. Il gran turco, eccetera. Guarda, lui ha fatto un monocultivare. Lo chiama proprio moraiolo e poi addirittura ce lo mette qui. E poi c'è il fruttato, eccolo quando dicevamo diversi. E poi lo prepara con un po' di fagioli e ci ha messo anche un pezzettino di bruschettine. È quello che ci vuole, è quello che ho detto. La bruschetta, olio nuovo, i fagioli per uno sfizio ce lo possiamo togliere. Però se vogliamo assaporare, nel equilibrare i vari gusti, perché l'olio è considerato un condimento, ma sfatiamo un altro detto, è un alimento sotto tutti gli aspetti, punti di vista. È un alimento che soprattutto serve ad aromatizzare, a dare più vigore, a dare più appetibilità ai nostri piatti. Una fetta di pane è un buon mangiare, ma se ci metti l'olio, gli dai più appetibilità, è più piacevole e la digerisci anche meglio. Io dico la verità, quest'anno Giulio ho sofferto finché non è arrivato l'olio nuovo. Io già a fine di ottobre cercavo l'olio nuovo disperatamente. Qui chi è che comanda veramente? Cioè nella coltivazione, perché qui si parla di tutto, dalla potatura al... Mio padre, lo conosci bene, Francioni, Virgilio, che ora si è dileguato. Voi l'aiutate oppure no? Io purtroppo lavoro 12 ore al giorno. Ma la tua moglie l'aiuta? No, visto che ha detto è mio. Quest'anno sono arrivato per la raccolta, quando era il momento di andare a tavola a mangiare i salsicci cotti al fuoco lì sul campo. Non ho toccato un'oliva, però hanno fatto comunque un bel lavoro. È stata fatta una doppia raccolta, prima il moraiolo, solo moraiolo, è stato fatto appunto qui al mollino, qui accanto. Dopodiché sono stati raccolti gli altri olivi e quindi è stata fatta una versione diversa, con un 45% di frantoio, un 45% di leccino e un 10% di pendolino. E quindi abbiamo questi due olivi qua. Raccolte separate addirittura, Giulio. Quello che dicevamo prima, che diceva il signor Baglioni, che di raccogliere separatamente, poi lui ha fatto anche dei brand degli assemblaci. Qui c'è la passione, perché in effetti, mentre Baglioni viene fuori da una storia di famiglia lunghissima, quindi di agricoltori, qui c'è gente che fa tutti altri lavori e poi alla fine si è appassionato all'olivo, all'olivo e poi naturalmente al gusto. Virgilio fa il pensionato ed è uno dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Lui è quello che è caduto addirittura quando ancora le piante si potavano in un'altra maniera. Sono caduto, ho battuto in un sasso e mi hanno portato con l'elicottero a vedere Firenze. Loro hanno fatto una cosa molto bella quest'anno, hanno monitorato il fattore della mosca, quindi è andata bene, no? Castiglione, Fibocchi, Capolona e Subbiano. E' andato tutto bene? Abbastanza. Diciamo che abbiamo avuto sempre quello che era in mano la situazione giorno per giorno, si può dire. Ora io devo fare un complimento a Francioni, perché questa storia della mosca con la monetarizzazione, scusate se lo dico, ma lo dico con consapevolezza, è andata avanti perché c'era Virgilio Francioni. Questo moraiolo tira parecchio, eh? Tira, tira, è quello che dà, lo dicevo prima, l'armonia, soprattutto l'armonia al gileccino e al moraiolo. Gli dà rotondità, diciamo, usiamo un termine esatto, ecco. Vedo che è arrivato anche Luca, guarda, Luca, e in questo caso abbiamo, c'è le grappe, guarda Luca qua, c'è le grappe dell'usignolo, in questo caso, insieme a te, insieme a questo olio extravergine, che viene utilizzato tra l'altro anche per fare il sapone. Che poi ti lascia le mani lisce, vellutate. Donne, pensateci! E qui abbiamo invece una grappe, sono quelle grappe casalinghe, no? Fatte proprio per il proprio consumo. Con che uve l'hai fatto? Eh, secondo quello che capita, non si fa con l'uva, eh, la vinaccia, si fa con il vino e la vinaccia, a secondo quello che capita, naturalmente. Comunque, con la vinaccia non è che viene peggio. E poi, l'importante è distillare la roba buona, se distilli la roba buona, esce fuori questo prodotto qui, che se lo vuoi assaggiare... Lo facciamo assaggiare a Luca, diciamo, un assaggiatore ufficiale, guarda, ecco. Stiamo parlando di AI, vorrei però parlare anche di Luca, perché Luca è il mio fornitore quasi ufficiale, quando devo fare... No, scusa, lo dico, te lo devo fare un regalo, perché lì al Michelangelo ci vado, eh. Scusa, lì nell'angolino che vado, vado lì. L'Enoteca, l'Enoteca... Michelangelo, eh, scusa, voglio dire. Perché Michelangelo? Perché è viale Michelangelo, e quindi quando ho dato il nome al mio locale ho pensato chi meglio di Michelangelo, visto che è anche noto in tutto il mondo, beh, valorizziamolo, e ho pensato di usare il nome Michelangelo. E chissà se beveva vino Michelangelo, ha fatto uno studio? Lo sa che non ci ho pensato. Ora ci penserà, allora... È un motivo di riflessione, ci voglio guardare. Magari per fare una serata, mi inviti a una serata, quando tu la decidi, facciamo quello che beveva Michelangelo. Sicuro è un locale che non risale all'Italia di Michelangelo, però da una ricerca notarile all'archivio di Stato, sembra che ci sono delle documentazioni che risalgono nel 1908, ma i proprietari dicono che già dal 1885 c'era questo locale. Pensate voi, tu da quant'anni sono che fai, che ti dedichi proprio al vino? Allora, che mi dedico al vino dal 94, poi che sono sommelier dal 2004, però è stata una passione crescente questa, che è nata prima come facendo dei corsi da barman, poi piano piano... E qui sono le passioni... Te la grappa l'hai sempre fatta, intanto... Sì, l'hai sempre fatta oppure no? La grappa? Sì, film da ragazzo. Fin da ragazzo? Sì, sì. Quindi è una storia dei marconi? Sì, sì, è una storia... Dei marconi... Quindi lo possiamo anche fare... Beh, devo dire che è molto profumata e per essere casalinga è anche parecchio equilibrata, non è pungente esageratamente, non so se sapete, ma insomma per fare una buona grappa bisogna stare attenti soprattutto alle teste, a eliminarle le teste perché lì c'è il metanolo, quindi è una cosa che danneggia. Però bisogna stare attenti anche alle code perché praticamente lo sgrazia, cioè diciamo nelle code ci sono tutte quelle caratteristiche negative, quindi i grassi escono fuori, cioè comunque tutte le parti non nobili. E devo dire che il signore si è cavato bene per averla fatta in maniera artigianale. Allora, qui siamo con l'azienda? Agricola di Billy Francesco. Passito e olio, partiamo dall'olio. Ho fatto i complimenti perché prima di tutto è uno giovane, vedere i giovani negli oliveti pensano a produrre olio, bisogna fargli tanto di complimenti. Abbiamo visto dei giovani però erano delle signore, delle donne, delle quote rosa, comunque c'è sempre il babbo a monitorare tutto. E soprattutto con la passione, vediamo anche la passione che mette nell'imbottigliamento perché cura molto l'etichetta, cura molto l'immagine, cura molto l'olio. È un olio veramente eccellente. E' veramente eccellente. E gli si è fatta i complimenti perché sappiamo cosa significa arrivare a produrre un olio di questi livelli, di queste qualità. L'olio arriva alle olive, al frantoio, viene franto, è una spremitura meccanica, all'olio non gli si fa altro. Basta conservarlo bene, è tutta una filiera che a monte è un grande lavoro che questo signore ha fatto e continua a fare. E vedere oggi giorno i giovani che si dedicano all'olivicoltura, come dicevo prima, è una bella cosa perché salvaguardare l'olivicoltura non è salvaguardare solo il nostro turismo turistico ma soprattutto salvaguardare anche i nostri terrazzamenti, dalle piogge, dalle interperie di questo mondo, di questi cambiamenti climatici. E questo vuol dire molto e aiuta molto. Si dice che Arezzo è in una zona fortunata, però lo dobbiamo a chi ci lavora sopra. Come l'hai chiamato? Helios, praticamente. Diciamo che ora io ho fatto professionale l'Ipsa di Piavi Santo Stefano quindi il greco non... però è una deviazione del nome che significa appunto olio e l'altra parte è una divinità greca. Io vedo anche un'altra cosa, c'è scritto toscano, olio, estra. Intanto hai identificato subito la nostra toscanità. Io questo credo che sia importante. È un punto centrale, penso. Si punta sulla qualità e sulla... cioè diciamo sulla... sulla... sulla regione dell'azienda, insomma. Quante... quanto olio hai quest'anno? Siamo sui 300 litri, più o meno, come quantità... Come quantità no, come qualità eccezionale. Penso una campagna così non l'aveva mai... Confermiamo, confermiamo. Ha una qualità così eccezza. Soprattutto l'olio è un apportatore di benessere, allora non si può guardare l'euro in più o l'euro in meno. Poi io dico sempre questo e mi ci soffermo e continuamente lo ribatto. Generalmente si dice sempre che il rapporto prezzo e qualità... Io ci aggiungo resa, un'altra R, RQPR, però vuol dire resa, perché oli di queste qualità, oli che oggi troviamo a Castelnuovo di Subbiano, sono eccellenti. E questa eccellenza bastano poche gocce e che ti rendono sapiente il cibo che hai sotto il naso, quello che vai a mangiare. Altri oli che possono costare meno, ne metti quanto ti pare, non ti rendono. E' il solito discorso che se lo metti in padella per fare una scaloppina oppure per fare un soffritto, di l'ascio ne vuole un litro, di qua ne basta meno di mezzo litro. Questo è un blend, giusto? Non è un... La qualità è vecchia, nel senso c'è le qualità tipiche toscane, quindi frantoio, moraiolo, leccino e pendolino. Sì, vai. Facciamolo vedere, eccolo qua, il colore che anche si ha detto naturalmente Giulio, non guardate soltanto il colore, guardate soprattutto il profumo, sentite soprattutto il profumo e poi gustatelo. Questo è un colore veramente eccezionale, che dici Luca? Beh, è chiaro che l'occhio vuole la sua parte, non si dice. Nelle nostre degustazioni, diciamo nelle degustazioni ufficiali, anche in camera di commercio, non viene valutato il colore. Tant'è che utilizziamo bicchierini non trasparenti, perché il colore non è la cosa che determina necessariamente la qualità. È solamente l'aspetto olfattivo e gustativo che noi valutiamo. Volevo di nuovo, diciamo, appoggiarmi a quello che diceva Giulio, che non c'è molto più da dire di quello che ha detto. Complimenti al produttore, perché è giovane, come diceva Giulio, e sta attenta a particolari. Bottiglia elegante, tappo non comune, elegante, etichetta quanto basta, la bottiglia scura, tonda. È stata attenta a particolari, questo va fatto notare questa cosa. Scusa, adesso la bottiglia del passito come ti sembra? Noi tra l'altro siamo terra di passiti o terra di vinsanti? Beh, la nostra è terra di vinsanto, è assolutamente così. Però, voglio dire, il fatto che abbia tentato anche questa strada denota il fatto che è un ragazzo pieno di iniziative e quindi va assolutamente applaudito. La responsabilità credo sia dei miei nonni, che sono nato, infatti questo lavoro lo dedico soprattutto a loro, sono nato in cantina, in mezzo ai mulini e quindi i sapori, gli odori ti rimangono per tutta la vita. Ho avuto questa occasione e l'ho presa.